Dieci scippi messi a segno tra l'agosto dell'anno scorso e aprile di quest'anno, otto quelli compiuti durante il 2017 e due nella primavera 2018, con una pausa durante i mesi più freddi perché le vittime designate tra i 75 e i 90 anni escono meno nel periodo invernale e soprattutto perché a causa dell'abbigliamento pesante sarebbe stato più difficile raggiungere l'obiettivo dei colpi, collanine d'oro. Secondo i carabinieri di Montebelluna, gli autori dei colpi sarebbero due giovani cittadini marocchini di 24 e 27 anni, residenti a Crocetta e a Possagno, con diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. I due, secondo quanto ricostruito, entravano in azioni in coppia o da soli, in zone abbastanza isolate e senza la copertura di sistemi di videosorveglianza, intorno all'ora di pranzo. Intercettavano la vittima di turno e poi agivano. Anche con la scusa di chiedere un'informazione per poi cogliere il momento opportuno per scippare la collanina dal collo. In altre occasioni, evidentemente per loro le condizioni erano favorevoli, scippavano direttamente alla collarina e scappavano via. Per allontanarsi usavano un ciclomotore o un'auto, l'area di azione dei due, l'alto trevigiano, tra i comuni di Pederoba, Loria, San Zenone degli Azzerini, Cavaso del Tomba, Possagno. Fortunatamente, nonostante la rapidità dello scippo e l'elevata età delle vittime, nessuno è rimasto gravemente ferito. Fortunatamente, ha detto bene, nessuno si è fatto male, tranne qualche piccolo livido, qualche ammaccatura, ma è andata veramente bene. Nessuna persona, nessuna vittima ha riportato lesioni particolari. Tra la popolazione più anziana nei comuni interessati dagli scippi è cresciuto nel tempo un senso diffuso di paura e insicurezza. I carabinieri di Montebelluno, dopo una lunga articolata indagine, incrociando più elementi, sono riusciti a risalire ai due marocchini, già noti alle forze dell'ordine, ora in carcere a Santa Bona.